Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 28. Dichiaro aperta la votazione. Bernini. Gelmini. Zoggia. Provi a votare. Altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Relatrice, prego, l'articolo 29. Per l'articolo 29, Presidente, parere favorevole al 29.600 della Commissione e poi al 29.152 Verini, però con una riformulazione. Sostituire le parole utilizzabili con la seguente, cioè con utilizzate. Il resto, parere contrario. Perfetto. Relatore di minoranza. Prego, onorevole Ferraresi. Grazie. 29.50 Santelli contrario, 29.1 29.150 favorevole, 29.2 Ferraresi favorevole, 29.301 Mannino favorevole, 29.302 Micillo favorevole, 29.303 Terzoni favorevole, 29.304 Zolezzi favorevole, 29.309 Zolezzi favorevole, 29.303... Pezzi un secondo, 29.309, questi sono ritirati, 309 è ritirato, 310, 311 e 312, quindi arriviamo invece al sub 0.29.600.1 Ferraresi, su cui immagino ci sia favorevole, favorevole ovvio, poi c'è lo 0.29.600.2